L'ospedale di Trani come polo chirurgico e quello di Bisceglie come polo medico. E' stata questa la proposta fatta da Gigi Riservato, ascoltato ieri in Commissione Sanità in merito al piano di riordino ospedaliero, insieme al neosindaco di Trani, il vice sindaco Giuseppe Di Marzio e altri due assessori della nuova giunta. Una mera audizione che non ha dato risposte ai risultati, in quanto ad essere assente era l'attore principale, l'assessore Arramo Ettore Attolini. Per il presidente della sesta provincia pugliese, Francesco Ventola, è necessario guardare ai numeri per comprendere appieno l'ingiusta ripartizione di questo piano. Nel nostro territorio, afferma Ventola, il rapporto tra popolazione e posti letto è pari a 2,2, mentre nella provincia di Brindisi è di 3,1, circa 400 posti letto in più, nonostante i soli 7.000 abitanti di differenza. La nostra provincia continua ad essere penalizzata ingiustamente nelle scelte del governo regionale. Per Ventola si tratta di una vera e propria disparità di trattamento tra la provincia di Barletta Andrea Trani e le altre province pugliesi, anche in seguito alla chiusura del reparto di ostetricia e ginecologia nell'ospedale di Canosa di Puglia e di diversi reparti del San Nicola Pellegrino di Trani. Per il consigliere regionale Franco Pastore, componente della terza commissione sanità, l'indirizzo politico dei tagli deve prevedere e garantire la medesima velocità nel privare taglio dei posti letto e chiusura degli ospedali e nel dotare servizi sul territorio, ambulatori e strutture sociosanitarie in grado di promuovere salute e prevenire le ospedalizzazioni. La proposta lanciata da Pastore al mondo della politica regionale e provinciale, alla conferenza dei sindaci e al direttore generale dell'ASLBAT Giovanni Gorgoni è quella di partecipare a un incontro, una sorta di assemblea interistituzionale da tenersi nel teatro Curci di Barletta per poter avere un confronto con l'assessore regionale alla sanità Attulini.